E grazie per aver fatto conoscere a questa spenta piazza anche quelle che sono le danze standard. E io adesso sono tornati dai campionati italiani FITS 2016 il 7 luglio, portando a casa risultati eccezionali. Dopo un intenso anno agonistico dedicato completamente ai loro allievi, sono riusciti anche a realizzare questo meraviglioso evento. Questa sera per voi i maestri Giovanni Gentile e Maria Grazia Rizzello in un romantico show Legame Indissolubile. Applauso, grazie. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie per aver guardato il video.